Io avevo, dunque, nel 67 avevo 24 anni, no mi pare, 24 anni, avevo fatto un po' di due anni di medicina a Genova, poi a causa del decesso di mio padre, dovevo smettere, ho cercato un lavoro e in quel periodo la 3M assumeva, assumeva perché aveva un budget molto grande, soprattutto per persone che facessero il radiografico, bisogna dirlo anche, perché il fotografico stava andando un po' in declino e quindi avevano bisogno di assistenti tecnici perché il periodo era particolarmente sfavorevole per la 3M Ferragna, che se non fosse intervenuta la 3M, Ferragna avrebbe chiuso 3-4 anni prima, quindi saremmo qui a parlare di roba morta e quindi stava evolvendo il mercato radiografico in un modo tale per cui noi eravamo ancora indietro, ma bisogna riconoscere che gli americani hanno investito tantissimo, soprattutto nella ricerca che veniva fatta a Ferragna, sia sui prodotti chimici, sia sulle pellicole radiografiche, tant'è vero che poi alla fine esportavamo negli Stati Uniti le pellicole fatte a Ferragna, noi abbiamo fatto un viaggio negli Stati Uniti proprio per andare a vedere, avevano le nostre confezioni di pellicole etc. Dopo pochi anni che abbiamo rincorso la concorrenza perché avevamo dei prodotti ancora in fase di studio, siamo usciti con un prodotto internazionale superiore a tutti che è il Trimax. Io ho fatto un colloquio, dopo sei mesi dovevo entrare, è entrata un'altra persona, quindi sono entrato sei mesi dopo e come tutti si entrava operai per sei mesi, mi sembra un anno e poi secondo il lavoro che facevi la mansione ti veniva, io dopo sei mesi, otto mesi non mi ricordo, ho affiancato quelli che già stavano lì e andavo in giro a spiegare come si trattavano i nostri prodotti radiografici perché era ancora all'avanguardia la coda che quindi noi rincorrevamo la coda, avevamo dei prodotti abbastanza scadenti per cui abbiamo dovuto impostare un'assistenza tecnica apposta presso gli studi, presso gli ospedali, poi sono uscite le macchine sviluppatrici, meno male che ci siamo inseriti in quel settore lì altrimenti saremmo usciti di nuovo dal mercato e abbiamo ripreso come ho detto con delle pellicole concorrenziali molto e ci siamo ripresi buona parte del mercato italiano che avevamo perso, punto. La classificazione era operaio per contratto, però facevamo i controlli radiografici, noi facevamo i controlli sulle pellicole, facevamo l'assistenza quanto ho detto fuori perché c'erano dei grossi problemi sui prodotti, noi facevamo quello, poi controllavamo nei laboratori quello che trovavamo fuori come reclamo, lo controllavamo e poi davamo l'incipit alla ricerca per il miglioramento, questo era il nostro compito, c'era Sardo, ce ne erano anche delle altre persone. Io mi sono trovato subito bene perché ho trovato anche della gente che conoscevo già, quindi è stato facilissimo, poi noi eravamo un settore dello stabilimento che non era dentro dello stabilimento, quindi eravamo a parte, stavamo in un luogo ad hoc creato, credo già da prima, che si chiamava servizio tecnico di assistenza. Gli americani hanno risolevato la fabbrica, punto, hanno fatto anche, precedentemente quando sono entrato io l'ho saputo dopo, hanno fatto anche un bel taglio di personaggi che effettivamente erano lì perché erano parenti dei parenti, dei cugini, dei fondatori e poi sicuramente hanno messo delle apparecchature di stesa del prodotto, adesso stesa del prodotto, se qualcuno non sa come viene fatto, è un prodotto che viene praticamente steso su dei tapis roulant, come lo vogliamo chiamare, poi essiccato e quindi hanno portato la produzione che mettiamo fosse stata a 10 metri all'ora, l'hanno portata a 100 metri all'ora, con qualche inconveniente però poi è risolto, quindi secondo me hanno dato un'impronta che ha permesso alla ex Ferragna di vivere fino al 2000, quando è stato? 2005, 2006? Avevamo un piccolo reparto dove si lavorava anche al buio, giustamente per controllare questi eventuali reclami, questi prodotti nuovi che dovevamo mettere sul mercato, dovevamo passare da noi prima per vedere se stavano negli standard e quindi avevamo delle camere oscure dove c'erano delle sviluppatrici e dovevamo andare in camera oscura e sviluppare magari 100 pellicole una dietro l'altra. Io avevo sentito che a quell'epoca eravano tra i 4.500 e i 5.000 dipendenti, c'era un vasto parcheggio però bisognava arrivare in tempo per entrare, poi pian piano si è diradato, bisogna dirlo che non è che ha chiuso con 4.500 dipendenti pian pianino, anche perché c'era questa tecnologia molto avanzata e quindi gli operai, purtroppo, gli operai servivano un po' meno. Avevamo un grosso centro di ricerca, questo bisogna dirlo, che ha portato la 3M, ai vertici. Noi come commerciale mi pare intorno agli anni 90 abbiamo festeggiato 100 miliardi di fatturato in Italia di radiografico. Sono andato a Roma per due anni, ho dovuto prendere anche la residenza per cui adesso risulto immigrato da Roma, in particolare, e lì facevo l'assistenza ai venditori presso gli ospedali, sempre radiografico. Poi mi sono sposato, sono rientrato, dopo un anno sono rientrato e ho cominciato a fare la vendita, prima in giro fuori dalla Liguria, poi siccome chi fa la carriera molla, sono salito un attimino a posto di quello che ha mollato e ho fatto il venditore per 10-15 anni. Poi alla fine mi hanno promosso dirigente e ho avuto un terzo dell'Italia praticamente come vendita. Il passaggio poteva anche essere buono, nel senso che i Mention nella mente degli americani doveva aprire altri mercati secondo me, tanto è vero che hanno anche pagato un'agenzia non so quanti milioni di dollari perché facesse questa bacchetta o tre bacchette che erano con le lucine, quando l'avevamo commentato noi abbiamo detto che cazzo, per dire. Però l'impronta che danno gli americani, quella lì, puoi fare carriera, entri così, se hai delle capacità, puoi fare carriera, cosa che non succedeva prima in Faragna, parliamoci chiaro, è come succede raramente nelle industrie italiane gestite all'italiana, secondo me, poi gli americani si vanno fare quelle cose, poi magari avranno tagliato delle teste, non so, si può farsi, avranno anche sbagliato, certo, però in una ditta americana che ha il commerciale, che le produce, c'è possibilità di fare carriera, non credo nelle altre. Abbiamo posto sul commercio le pellicole più avanzate possibili, poi siamo passati anche alle macchine, qualcuno non voleva ma bisognava anche produrre le macchine per sviluppare queste pellicole, no? E quindi le abbiamo anche fatte, poi siamo passati al digitale e anche lì avevamo un buon prodotto, io non so cosa c'era nella testa degli americani di Rochester, perché hanno ceduto, perché non hanno fatto questo passaggio, non lo so, sinceramente, la crisi secondo me non c'era, anzi se vai a Savona, come ti ho detto io prima di andare in pensione, ho visto nascere il digitale a Savona, che era il nostro cliente, quindi io non l'ho vista la crisi, probabilmente sono state scelte tattiche, perché secondo me si sono trasferiti i brevetti negli Stati Uniti, giustamente, sono americani, adesso succede anche con la FFCA lì, non lo dico perché sembra una parolaccia, però la ex Fiat cosa ha fatto? Io credo che abbiano approfittato di un momento favorevole per cedere alla Kodak e se hanno ceduto la Kodak, la Kodak doveva essere interessata, secondo me, al mercato, no? Quindi non so perché poi è andata in crisi, è andata in crisi, secondo me è andata in crisi farragna, proprio come location, eh? Secondo me si sono autocastigati quando hanno mandato via la Kodak, perché in effetti è stato quello, non gli hanno rinnovato il contratto, credo, che stavano lì, poi qualcuno lo saprà meglio di me, perché io a Ferragna non ci sono più andato da quando sono diventato dirigente, quindi stavo a Milano, avevo l'ufficio a Milano, non lo so, però secondo me c'è stato qualche attrito e secondo me c'è stato anche qualcuno che ha pensato troppo in grande, pensava di e poi alla fine si è messo a fare qualche pannello fotovoltaico che ne hanno venduti? Sì, no, non me lo ricordo. Secondo me l'unico rimpianto è che qualcuno poteva intervenire a quell'epoca, secondo me, eh? Quando c'erano i prodromi che la 3M chiudesse o si trasferisse, eccetera, sì, qualcuno poteva anche intervenire, come poteva intervenire per l'ILVA, eccetera, basta, quello... Grazie a tutti.